Tu hai notoriamente due passioni, cioè le donne e la cucina, l'alcova e la mesa. Quale di queste due passioni più ti divora? Vedi che è un termine gastronomico. Ammesso che ti divorino. L'amore dopo pranzato. E tu preferisci scendere nel campo di Venere dopo l'abbuffata? O prima? Ma mi hai detto prima, dopo mi hai detto. Non ho orari. Ma quale piatto più ti alluzza, cioè ti stussica, ha su di te un maggiore potere afrodisiaco? Beh, diciamo la donna che ho di fronte, è lei che deve essere afrodisiaca. Per me il piatto non ha molta importanza. Anche tu devi essere afrodisiaco per lei. Cosa c'è in te di afrodisiaco? Io me lo sono chiesto da anni.